Io a me sono orgoglioso di averti qua, scusami se ti togli tu, perché ero ragazza e mio coniato mi portava a vedere il Napoli, ti ho sempre seguito i contratti, tenevo un 15 anni, ne tenevi 30, ero 62, un 10 anni. Mi ricordo la tua squadra di Ciccio Massa, da Vignani, da Bastori e insieme a Bruscolotti, hai comprato Burnic dall'Inter, gli hai cambiato lui da terzino l'emissione a difensore centrale, non lo ricordo, è una grande squadra che ha sfiorato lo scudetto e dobbiamo ringraziare Altafini che è stato un traditore. Purtroppo il Napoli lo battezzò come core in grado perché non ci permisi di vincere quel grande scudetto che tu secondo me insieme ai napoletani meritavo tanto, meritavi tantissimo. Io sono emozionato di averti qua, ho portato parecchi amici perché grazie a Peppe che me l'ha ricordato che c'era questo grande avvenimento, non posso che ringraziarti e augurarti altri 100 anni di stare a Napoli insieme a noi perché non si dimostra altrimenti che sei da 60 anni a Napoli, da 55 hai lasciato il tuo Brasile che è caloroso come i napoletani, non si dimostra sentimenti, ti ringrazio ancora una volta, a te e alla signora e tutta la tua famiglia e per tutto quello che ci hai dato.